Come on! Amore, mi dici che cosa andiamo a fare in India? Avvocato, porto anche io, vado in India. Mamma mia, e questo secondo l'ingegnere con la moglie vera succede un casino. Ah, c'è anche la sua signora. E dov'è? Dov'è la mia signora? E dov'è? E dov'è? Mamma, in piscina. Oh, è va bene. Ambedi, vado a sentire l'entrambuling. Ah, birilli, ma che faccia adesso? Che bella del daino. Papà, il giudice ha avuto l'onore di pestare la cacca di una mucca sacra. Ma che schifo, ma che sta merda? Appena la forza, prendila con forza! Ho visto sua moglie che si baciava languidamente col suo avvocato. Ah, la bionda? E' certo la bionda, eh? Quante moglie ha? Ma sei proprio uguale a me? Ma che te si è fatto la plastica? Io me so fatto proprio che di tutto. Ma la plastica non l'ho provata mai. Com'è? Bona! Come on! E' proibita la caccia alla tigre, mi dia il fucile! A lei sa imitare gli animali. Ma certamente, è un uomo che coltivo sin da piccolo, eh? Vuole sentire il verso della pernice grigia? Senta, giudice, mi dica una cosa. Saprebbe dimmi qual è il film da vedere quest'anno? Se riusciamo a entrare... Beh, Natale in India! Al cinema! E... ... ... ... ... Grazie a tutti.